buongiorno amiche buon sabato buon sabato finalmente è arrivato anche il sabato io sono super contenta un po' scioccata piena di sonno anche un po' emozionata devo dire questa mattina perché mi hanno scelto tantissimi prodottini questa fascetta skin care super carina con due orecchiette molto molto carine molto cartoon come sempre cocon a modi lottatori di sumo perché capelli in faccia amiche mi danno un sacco fastidio e il bigliettino carino di oggi dice abracadabra e quindi amiche che incominci la magia nel video di oggi sicuramente la magia più grande sarà da addormentata a l'alix truccata direi che primo passo indispensabile come tutti i giorni dischetto di cottone lavabile in ravatrice e riutilizzabile e tamponiamo al volo Shiseido Benefiance una lozione addolcente che è letteralmente una coccola io l'avevo trovato in omaggio in una box con gli acquisti in profumeria e devo dire che è bellissimo e delicatamente profumato come sempre applichiamo anche la crema contorno occhi mi sta piacendo tantissimo è una mini taglia da 5 ml di Shiseido della linea Ibuki è una crema occhi correttiva devo dire che è tanta tanta roba la crema occhi quando te la danno in omaggio soprattutto perché questi 5 ml sembrano pochi ma durano un botto di tempo quindi benvenga amiche quando vi regalano la crema occhi in profumeria un grazie speciale alla commessa che ve lo dà perché vi sta facendo un bellissimo regalo come anche bellissimo è questa mini taglia del siero di Lancome l'Advanced Genifique un concentrato attivatore di giovinezza lo tamponiamo bene nel viso come mi avete insegnato voi e mi sento subito rigenerata e rilassata è utilissima anche questa mini taglia di Clarence la Nutrilumiere Ajour una crema nutriente e rivitalizzante è una crema anti età quindi top ed è una crema giorno molto molto carina e utilissima devo dire 5 ml anche questa quindi bella grande e nel collo applichiamo l'Aptalin collo seno di Bio Apta un'emulsione rassodante collo seno mi raccomando importantissimo idratare il collo per prevenirne la caduta della pelle amiche è importante anche applicare la crema solare questa è la Daily Defender di Pupa con fluido protettivo 7 fattori e ginseng indiano con SPF 50 l'applichiamo nel viso, collo, décolleté, manine e braccia mi raccomando ricordiamoci di spalmarci sempre e nelle mani applichiamo anche la crema a mani all'olio di argan di Leo Crema con olio di argan 100% biologico che nutre e idrata tantissimo do una spalmata anche alle braccia che era un po' secchina ieri e l'altro ieri quindi meglio idratare applichiamo oggi anche un primer siero illuminante per il viso di Pupa della linea Bright & Meds Elisir bellissimo in colorazione 001 super luminoso mi piace un sacco e mi fa sentire già raggiante devo dire che sono una grande scoperta questi illuminanti primer per il viso ma geni, pini, brufolini e gli occhiaie da pandina noi amiche anche oggi irrinunciabile l'uso del correttore e del fondotinta il correttore che utilizziamo oggi è il liquid camouflage di Catrice che garantisce 12 ore di durata waterproof e non transfer in colorazione 015 honey lo applichiamo come sempre con la beauty blender un po' inumidita come mi avete consigliato voi oggi applichiamo due shade di fondotinta di L'Oreal Paris della linea Skin Paradise con SPF 20 abbiamo due colorazioni molto molto carine una è un po' più beggiolina e l'altra è un po' più scuretta quindi mixate assieme e sfumate danno un risultato molto molto bello la colorazione è light 01 e fair 02 bellissime e guardate com'è carino l'effetto mi piace veramente tanto l'effetto è etereo ma guardate cosa mi hanno messo qua tra i prodotti è lo stregatto di Alice nel paese delle meraviglie mi mette un sacco di allegria e mi fa anche venire tanto la magia di abracadabra nella testa molto carino averlo trovato qua mi ha messo un po' di allegria però non lo utilizzo perché questo specchio non lo trovo tanto comodo ma mi piace tantissimo e lo ricomprerei mille volte la cipria che utilizziamo oggi è di Essence ed è la Mosaic Compact Powder in colorazione 01 Sunkissed Beauty bellissima e rende una base molto molto duratura il blush che utilizziamo oggi è della linea di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ed è di Revolution e c'è un umpa loompa molto simpatico protagonista di questo bellissimo blush e l'effetto è super carino secondo me come anche bellissimo e magico è questo bellissimo bronzer di Alice in Wonderland del brand Wet n Wild sulla palette c'è scritto T-Anyone e il cappellaio matto è il protagonista di questa palette magnifica, spettacolare e stellare questo illuminante sempre di Willy Wonka è la fabbrica di cioccolato di Revolution è a forma di uovo dorato gigante ed è letteralmente simpaticissimo ma sulle labbra amiche oggi proviamo e come non provarlo irrinunciabile questa prova è il labello all'anguria ah sì, finalmente proviamo assieme questo bellissimo labello garantisce 24 ore di idratazione ed ha oli naturali ed è arricchito con vitamine water, melon, shy con formulazione vegan e formula migliorata lo trovo molto carino la profumazione è buonissima è delicatamente colorato ma non può mancare come sempre un piccolo tocco di Volum Boost di Bella Oggi un balsamo labbra rimpolpante e volume istantaneo con effetto plumping attenzione, attenzione è la regista che vi parla oggi strega comanda color oro 24 carati dalla palette il mago di Oz di Revolution wow amiche continua la magia col mago di Oz bellissima questa palette so che anche a voi piace tantissimo come sempre applichiamo il nostro amico scotch di carta che è indispensabile ormai per la realizzazione di un look occhi pulito e definito e come sempre il primer occhi non può mancare questo è il primer occhi di Kiko si chiama Pirli ed è molto molto bello l'avevamo trovato in omaggio anzi più che in omaggio era una casella del calendario dell'avvento di Kiko come sempre prendiamo una grande quantità di ombretto e stiamo applicando il più dorato di questa palette che è letteralmente oro 24 carati bellissimo questo ombretto sapete che io amiche ne applico una scarrettata non mi piace applicarne poco ma mi piace applicarne tanto 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 perché voglio vedere un bel risultato pieno e soprattutto brillante con un pennellino pulito vado a sfumare la parte superiore dell'occhio con un dorato un po' più chiaro anzi è un mix di due uno un po' più diciamo freddino e uno un po' più caldo e con un pennellino piatto andiamo ad applicare un po' di marrone per delineare la codina dell'occhio e andare a creare diciamo una sorta di eyeliner amo tantissimo applicare una codina sia con l'ombretto che con l'eyeliner e il mascara che stiamo utilizzando oggi è unlimited mascara di L'Oreal e sembra una piccola ampolla magica e quindi la trovo veramente molto carina e adatta a questo magico video come sempre amiche andiamo a creare insieme anche il look nel secondo occhio siamo state velocissime oggi in un batter d'occhio come fosse una piccola magia abbiamo creato il look pensiamo che il pennello a volte makeup sia una sorta di piccola bacchetta magica che sventolandola in aria crei una piccola magia su di noi e ci trasformi letteralmente in principesse dolcissime e elegantissime voi pensavate che io avrei detto bellissime no perché la cosa più importante è essere dolcissime magari con un po' di grazia ed eleganza poi belle ok col trucco forse un pochino ci possiamo diventare però non è importantissimo secondo me e più quanto dolci e aggraziate ci faccia sentire secondo me o almeno io ho questa concezione del makeup mi fa sentire più dolce e più aggraziata mi sento un po' un orco ecco senza il makeup fatemi sapere cosa ne pensate abbiamo applicato un piccolo brillocco che in realtà è una borchietta per la nail art ed è a forma di cuoricino nelle labbra applichiamo questo bellissimo rossetto wonka lipstick di willy wonka la fabbrica di cioccolato è marrone ed è super profumato profuma tanto 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 di cioccolato e lo mixiamo sulle labbra con un dorato bellissimo di l'oreal che si chiama color rich pure gold bellissimo lo amo tantissimo mi piace un sacco utilizzarlo mia amica il look è finito fatemi sapere nei commenti se la magia di oggi vi è piaciuta io spero di sì e fatemi sapere se per voi la dolcezza la grazia e un po' di eleganza sono importanti nella vita per me tantissimo la parola segreta di oggi è dolcezza mi raccomando amiche ricordate di scriverla nei commenti io vi mando un bacio grande grande ci vediamo come sempre nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti ciao amiche buona giornata a dopo